buongiorno amici dal centro di bolzano ho trovato un vicoletto simpatico così chissà dove mi porta guardate qua c'è un punto luce sul cielo e continua vediamo vediamo dove mi porta questo vicoletto che figo le finestrine sarà cosa un bagno dispensa chissà queste vecchie case della monarchia austro-ungarica di una volta ai ai luce ancora accesa spegnetela aumentano le bollette eccoci eccoci una bici una città dei ciclisti qua e sono arrivata qua buongiorno buona domenica da bolzen